Buongiorno a tutti. Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di possedere un mantello dell'invisibilità che ci facesse scomparire alla vista degli altri? Oggi vi racconterò come tecnicamente questo è possibile grazie alla manipolazione delle onde, nella speranza che le idee di oggi possano rappresentare la tecnologia di domani. Io mi occupo di onde ed oggi vi parlerò del mantello dell'invisibilità elastica per spiegarvi come è possibile controllare le onde sismiche con i metamateriali. Come sappiamo le onde dell'universo, la luce, le vibrazioni, il suono, obbediscono alle stesse leggi fisiche e quindi il mio progetto di ricerca mira a rendere invisibile gli edifici alle onde dei terremoti nello stesso modo come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter rende la persona che lo indossa invisibile alle onde della luce. A questo progetto sembra particolarmente interessato anche il mio cane, il quale quando lo rimprovero corre a nascondersi sotto le mie maglie come se anche lui avesse il mantello dell'invisibilità. Nella realtà esistono dei metamateriali, ovvero dei materiali con delle proprietà dinamiche eccezionali che permettono di comportarsi come dei mantelli di invisibilità sia per le onde elettromagnetiche che per le vibrazioni, il suono. Del resto il suono non è null'altro che un piccolo terremoto che avviene all'interno del nostro orecchio. La parola viene dal greco, metà, ed indica delle performance che vanno al di là dei materiali ordinari. I metamateriali sono periodici, ovvero le celle si ripetono in diverse direzioni, un po' come le luci di piazza di palazzo di città di Torino. Per capire il funzionamento dei metamateriali dobbiamo richiamare che cos'è un'onda, ovvero una perturbazione che si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia ma non materia. Qui possiamo ottenere un video di un'onda con una semplice molla metallica, allungandola su un tavolo e mettendo in tensione alcune delle spire. Quando rilasciamo le spire vediamo che esse oscillano rispetto a un punto di equilibrio indicato dalle frecce fino a fermarsi, non trasporta materia. Se tracciamo l'andamento delle spire in funzione del tempo vediamo che essi oscillano tra un massimo e un minimo, detto ampiezza, in un determinato arco temporale tempo. Un altro fenomeno importante è quello di risonanza e antirisonanza, per cui queste oscillazioni possono assumere sotto certe condizioni valori molto alti o valori molto bassi. In fisica questo si descrive attraverso un sistema semplificato detto oscillatore semplice e praticamente lo possiamo vedere di nuovo con un giocattolo, un asinello legato ad una molla, cambiando la velocità con cui spostiamo su e giù la molla. Quindi prima ampi spostamenti, adesso spostamenti bassi. I metamateriali funzionano esattamente secondo questi principi e quando un'onda impatta un metamateriale produce altre onde, in questo caso rappresentate in rossa e in blu, che allo stesso tempo sono opposte. Quindi sommandole danno origine ad un'onda con ampiezza nulla, ovvero l'onda non può propagarsi. Per disegnare e progettare i metamateriali si usano dei diagrammi di questo tipo, che sono molto complicati, ma in realtà riescono a fornirci l'informazione precisa di in quali zone l'onda non potrà penetrare. In laboratorio abbiamo ricostruito un mantello dell'invisibilità elastica con delle misure laser vibrometriche, verificando che effettivamente è possibile avere una zona in cui la nostra vibrazione, l'onda elastica, non può penetrare. Abbiamo anche costruito un costetto diodo acustico, ovvero un muro speciale che permette al suono di passare da sinistra verso destra, ma ne impedisce la propagazione da destra verso sinistra. Immaginate che bello avere questo a casa, che ci permetterebbe di sentire quello che si dice in un'altra stanza senza essere sentiti. Altri domini di applicazione riguardano l'isolamento termico, la costruzione di porti flottanti per protezioni anche di tsunami, applicazioni mediche e i mantelli dell'invisibilità sismica. Questo è reso possibile grazie alla scalabilità delle equazioni. Questo vuol dire che le equazioni delle onde valgono sia per sistemi molto piccoli, la molla, l'asinello, ma anche per sistemi molto grandi, le onde sismiche e gli edifici. Questo ci permette di replicare questo controllo delle onde su larga scala e ridiriggere a nostro piacimento l'onda del terremoto. L'efficacia di questo tipo di dispositivo è stata effettuata tramite un modello numerico su una costruzione esistente, il castello delle Quattro Torre di Siena, costruzione archeologica del 1300. È stato effettuato un modello numerico in cui il castello è stato duplicato, uno non è protetto dal metamateriale, l'altro è circondato invece da questi metamateriali, le croci che vedete sullo schermo. Il punto rosso è il punto equidistante dai due castelli in cui è stata eccitata l'onda sismica. Se noi facciamo partire il filmato, possiamo vedere come l'onda sismica impatti il castello non protetto, mentre non riesce a penetrare nella zona protetta da metamateriali. I colori indicano i differenti spostamenti che le strutture subiscono. Se andiamo a questo punto a fare uno zoom, se andiamo a fare uno zoom dei due castelli e vediamo quello che succede, sostanzialmente vediamo che la scala di colori ci indica come il castello non protetto sarebbe crollato, indicato dal rosso, dal grigio, mentre gli spostamenti del castello protetto sono piuttosto accettabili. Con oggi, con questo concludo, dicendo che il messaggio che vorrei farvi passare è che grazie alla scienza dei materiali possiamo migliorare la qualità, il comfort e la sicurezza della vita di tutti i giorni, inclusa quella del mio cane, che con il mantello dell'invisibilità potrà mordermi lacci delle scarpe e correre a nascondere senza essere rimproverato. Grazie per l'attenzione.